sai cosa separa un vincente da un perdente ragazzo il risultato rimontare in serla dopo che hai preso un calcio nei denti dovete mettersi il cuore il bianco è il bianco dell'onestà perché prima di tutto dovete ricordarvi che siete degli sportivi e quindi si scende in campo con sportività e con onore il rosso è il rosso della passione e del sangue vostro e dei vostri avversari ma sangue sportivo la passione che dovete mettere ogni volta che entrate in campo quindi voi avete una responsabilità verso tutte queste persone e queste persone saranno pronte a sostenervi grazie grazie